Dopo un'ora di ritardo per mancanza del numero legale dei consiglieri presenti in aula, 12 poi diventati 16, si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale monotematico per affrontare la questione del debito Ato, che il Comune ha deciso di pagare due anni fa chiedendo un'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per saldare il debito di 10 milioni di euro da restituire in 30 anni. Il Sindaco Gambino ha dichiarato che oltre il nostro Comune anche altri Comuni hanno fatto lo stesso, dopo aver seguito un lungo percorso sulla base di quattro ordinanze emesse dal Tribunale di Caltanissetta. Sulla stessa linea d'onda l'assessore al bilancio Luciana Camizzi, dopo un lungo discorso accompagnato dalle slide per spiegare i presenti in aula consigliare. Dopo si sono susseguiti i due ex sindaci Salvatore Messana e Giovanni Ruvolo, mentre i due cittadini prenotati per esprimere il loro punto di vista si sono soffermati sugli accantonamenti fatti a partire dal 2010. Dopo la parola è passata ai consiglieri comunali che con il passare del tempo si è deciso di rimandare tutto di 24 ore perché è venuto a mancare il numero legale per continuare il Consiglio Comunale.